Questo meccanico, Mario Cianverlini, è quello che poi inizialmente mi ha spinto a correre. Anche lui era un ex pilota e un bravo motociclista sulla strada, era uno che andava molto forte con un larda. La prima volta che siamo usciti insieme, sai, a 18 anni avevo un'altra testa, l'ho passato più volte e ci siamo divertiti, ma quando ci siamo fermati mi ha detto Franco, se ti vuoi bene devi iniziare a correre. Gio in Giappone e quando sono la giovane al circuito della Suzuki, che è il circuito di Ryugio, subito ho battuto il record della pista. Mi sono un pochino, non dico montato la testa, ma comunque ho preso così tanta confidenza che quel record che avevo battuto ero convinto di batterlo ancora di più, ho fatto un botto.